Gentili telespettatori, buona giornata. Caro Lollo Brigida, mettiti d'accordo con te stesso. Prima dici che ci vogliono mezzo milione di migranti all'anno, poi parli di sostituzione etnica, ci stanno sostituendo, e poi oggi, 2 luglio, torni a dire che abbiamo bisogno di immigrati, ma legali. Però, seguendo il ragionamento di Lollo, migrante legale o illegale, ai fini della tua sostituzione etnica che ci hai raccontato, c'è poca differenza che il migrante sia legale o illegale se tu ci parli di sostituzione etnica. Quindi, mi sa che devi fare pace con te stesso, metterti d'accordo con te stesso e dirci quello che pensi. Voi direte, perché deve dirci quello che pensa? E' un ministro della Repubblica, parla e dice cose contraddittorie. Prima ne voleva mezzo milione, poi parla di sostituzione etnica, adesso dice, torna a dire, ci servono migranti. E poi aggiunge, dobbiamo far sviluppare l'Africa perché l'immigrazione illegale va affrontata qui, ma va affrontata prima lì. Beh, diciamo che in campagna elettorale non si parlava in questo modo. In campagna elettorale, vi ricordo i cartelli che ho scritto sopra, blocco navale subito, unica soluzione, per fermare gli arrivi devi fermare le partenze. Che è ovvio, è ovvio, se vuoi fermare gli arrivi devi non far partire le persone, per non far partire le persone devi andare nei paesi da dove partono e metterti d'accordo. Cos'è questo? Soldi e metterti d'accordo. Devi dare soldi alle persone giuste, quelle che chiudono un occhio perché prendono soldi dai trafficanti. Quindi tu devi dare più soldi dei trafficanti per far sì che loro diano retta a te e non ai trafficanti. Quindi devi portare soldi, devi metterti d'accordo per fare questo blocco navale, perché va fatto in accordo con i paesi da dove partono. Poi, il giorno dopo le elezioni, la promessa elettorale è completamente sparita. Alla domanda, scusate, ma sto blocco navale subito? Sì, ma voi non avete capito che era blocco navale subito europeo. Dice, ma la parola europeo non l'ho mai sentita. Eh, tu non l'hai sentita, ma noi l'abbiamo detta sempre. Ah, e c'è qualcuno che dice, come no? L'Ameloni l'ha sempre detto che era un blocco navale europeo subito. A me quella parola europeo in mezzo a blocco navale subito, quella parola europeo, sinceramente non me la ricordo. Però posso sbagliarmi, eh, attenzione. Posso prendere un'accantonata gigantesca. Sta di fatto che Lollo deve fare pace con se stesso. Caro Lollo. Lui dice, abbiamo bisogno di immigrazione ma di quella legale. Ma quando noi facciamo il decreto flussi e diciamo che quest'anno regolarizziamo 80, 90, 100 mila persone clandestine, attenzione, attenzione, la narrazione racconta che facciamo entrare 100 mila persone per venire a lavorare, quindi sono ingressi legali. Nine, 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 non è così. Praticamente quel decreto flussi è una sanatoria per quelli che sono già in Italia in maniera illegale. Quindi tu con la sanatoria non è che fai entrare 100 mila in maniera legale, ma prendi 100 mila che sono già in Italia in maniera illegale e gli dici guarda che da tal giorno a tal giorno puoi presentare la domanda per regolarizzare la tua posizione andando a lavorare dove serve a noi e punto e basta. Quindi il decreto flusso non serve per far arrivare persone per lavorare, ma serve per regolarizzare quelle che sono già arrivate. No, è giusto per precisare e non farsi prendere in giro dai politici, perché i politici quello che fanno è prendere in giro l'elettorato. Questo mi sembra che lo abbiate capito tutti. No, c'è ancora qualcuno che ancora fa finta o non vuole ascoltare. Comunque, caro Lollo, abbiamo bisogno di immigrazione ma di quella legale, dice. È il modo migliore per averla e contrastare quella illegale. Non ho afferreto. Se a noi servono migranti e prendiamo quelli che ci sono già in Italia facendo una sanatoria chiamata decreto flussi, quindi prendiamo gli illegali e li facciamo diventare legali, Lollo dice che il modo migliore per avere immigrazione legale è quella di contrastare quella illegale. Un po' contorto Lollo, insomma, ma sono io che non lo capisco, io non sono al suo livello o al tuo livello, sono io che ho difficoltà a capire perché sono io che non ci arrivo, attenzione. E così il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollo Brigida, Lollo per gli amici, e perché tu lo chiami Lollo? Lollo, non sono tuo amico? Oppo bacco, pensavo di essere amico, mi ero sbagliato. Ma Lollo Brigida, visto che non siamo amici, lo dice nel suo intervento a Fenix. Non è la legione Fenix, quella del gladiatore, no? Vi ricordate? Comandante delle legioni Fenix. No, lui non sta parlando alle legioni Fenix del gladiatore, ma sta parlando a Fenix, che non so che cosa sia. Scusate, ma non lo so. C'ho problemi, non lo so. La destra italiana, dice, all'Africa non solo ha teso la mano, ma vuole metterla in condizioni di produrre per poter garantire autosufficienza alimentare e anche mettere i propri prodotti a disposizione degli altri paesi. Dobbiamo far sviluppare l'Africa perché l'immigrazione illegale va affrontata qui, ma va affrontata prima lì. Sì, Lollo, siamo tornati amici, senti Lollo, per fare industrializzare l'Africa, che manco la Sicilia e la Calabria sono industrializzati, la bellissima Sicilia, dove voi girate e girate, non trovate una fabbrica manco se piangete in... Ecco. Quindi, prima di far industrializzare il Nord Africa, forse dovremmo far industrializzare il centro-sud Italia, che di fabbriche non ce n'è. Diciamo che il progetto, detto Piano Mattei, per fare sviluppare il Nord Africa, necessita di decenni, decenni, però bisogna anche cominciare. Ci vogliono decenni, ma devi cominciare. È stato cominciato il Piano Mattei? L'Europa ha deciso di fare fabbriche lì, non mi sembra. Quindi, quando l'Europa deciderà di cominciare a fare questo Piano Mattei, ci vorranno 20, 30, 40, 50 anni. Probabilmente noi non ci saremmo neanche più. Però l'Italia sarà diversa, con 2-3 mila arrivi ogni giorno di clandestini, fra 50 anni l'Italia sarà assolutamente diversa da come la conosciamo oggi. Grazie a tutti, arrivederci a presto. Ciao Lollo!